Genitori 3.0 settimanale di informazione sociale rivolta ai genitori e ai futuri genitori. Un'opportunità per percorrere in modo consapevole la strada della valorizzazione degli affetti. Un saluto da parte di Gabriele Pugliese e benvenuti nel programma Genitori 3.0 in onda su Radio Polis, la radio delle buone notizie e del dialogo. Riprendiamo il nostro appuntamento con i temi della genitorialità rivolti ai genitori, ai futuri genitori e a coloro che svolgono la funzione di genitori, come indica la nostra sigla che avete appena sentito. Ringrazio la dottoressa Monica Castagnetti, consulente psicoeducativa, la mia precedente compagna di viaggio e do il benvenuto al dottor Gabriele Catania che da più di 30 anni ha svolto la sua attività presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. Nel periodo precedente ha svolto la sua attività al servizio psichiatria della Giunta Regionale Lombarda. Adesso è in pensione e consulente esterno dello stesso Dipartimento dell'ospedale Sacco. Il dottor Catania, come dicevo il mio nuovo partner di viaggio, ci aiuterà a riflettere sulle tematiche della genitorialità e sulle problematiche legate alla psiche umana, non solo sulla base della sua attività professionale ma anche in qualità sia di Presidente dell'Associazione Amici della Mente e anche sulla base della sua attività di formazione. Buongiorno dottor Catania. Buongiorno a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Nella puntata odierna, nella prima parte, parleremo della sua associazione e nella parte successiva finale ci aiuterà a riflettere su quella strage familiare di Paderno Dugnano. Mi riferisco al giovane 17enne addirittura che ha ucciso il fratellino, la madre e il prate, proprio in questa successione. Ma parliamo della sua associazione, dottor Catania. Come nasce l'associazione Amici della Mente? L'associazione Amici della Mente nasce all'interno del Dipartimento di Salute Mentale dell'Ospedale Sacco, adesso ASST, Fate Bene Fratelli Sacco, nel 2008 e ancora collabora in convenzione con lo stesso Dipartimento per provare a dare una mano nell'ambito del disagio mentale. Naturalmente noi ci occupiamo di problematiche che riguardano la salute mentale e la maggioranza dei nostri soci sono ex pazienti che adesso, in base alla loro esperienza diretta, si occupano di sostenere, di fare interventi appunto a favore dei nuovi pazienti. Quindi questo è un po' l'elemento di base, questi si chiamano gli ESPE, cioè gli esperti per esperienza diretta che vengono utilizzati all'interno di questa associazione. Noi ci occupiamo chiaramente di diversi ambiti, in senso che è l'ambito lo stesso, di diversi sistemi, progetti appunto per favorire l'evoluzione di questo tema della salute mentale che chiaramente richiede maggiore attenzione, diciamo, perché sempre più vediamo una crescita esponenziale di questi disagi negli ultimi 70 anni, questa crescita è quasi inarrestabile, è un'emergenza direi sociale, quindi noi cerchiamo di dare il nostro contributo come volontario. Entriamo tra un poco nel merito di alcuni di questi progetti che si possono intravedere anche leggendo il sito internet degli amici della mente. È comune a moltissime persone che soffrono questo tipo di disagio e l'aspetto della vergogna, cioè si sentono, si colpevolizzano insomma in qualche modo e credono che possano uscire tranquillamente da questa situazione di disagio attraverso la propria volontà, insomma attraverso la propria volontà possono guarire. leggendo sul sito della sua associazione voi dite diffondiamo la conoscenza empatica della diversità e del disagio psicologico, ma in cosa consiste questo tipo di intervento e attraverso la bottega dell'inclusione sociale? Cosa avviene sostanzialmente? Grazie della domanda perché ci permette di mettere un po' in luce questo aspetto al quale dedichiamo parecchio e parecchie energie. Dunque questa situazione che lei descrive, la vergogna, che tecnicamente chiamiamo lo stigma, è un problema gravissimo perché lo stigma, che significa essenzialmente essere discriminati e perché si ha una patologia psichiatrica, voglio aggiungere che questa discriminazione non riguarda solo le patologie gravi, non se uno viene discriminato perché ha una psicose, perché è schizofrenico, riguarda anche le patologie meno gravi, quelle negrotiche. Io personalmente ho fatto anche uno studio sugli attacchi di panico e capire quante di queste persone si sono sentite discriminate e poi autodiscriminate, perché poi il progetto è che questo stigma diventa uno stigma interno, cioè il paziente si vergogna, come diceva giustamente lei, per avere la patologia. Se posso usare un eufemismo un po' colorito direi che questo è il teorema del cornuto e mazziato, cioè già uno ha un problema di salute mentale impegnativo e in più si deve anche vergognare di questa cosa. È un problema enorme. E allora quello che noi cerchiamo di fare appunto è cercare di socializzare, cioè di diffondere la conoscenza su questo disagio attraverso strumenti empatici che è ovviamente l'obiettivo e la comunità. Quindi da questo punto di vista per esempio usiamo gli strumenti della musica, dell'arte in generale, non solo della musica, per organizzare eventi nei quali la gente partecipa e ascolta attraverso appunto le canzoni piuttosto che appunto le opere d'arte che i pazienti in qualche modo esprimono comunicando qualcosa di psicologico, di intimo, di personale, di soggettivo, in maniera che si possa conoscere questa dimensione del disagio. La bottega dell'inclusione sociale fa un passo avanti perché questa bottega che è appunto insediata nei locali ovviamente da confezione gratuita dal municipio 8 di Milano e permette di creare una condizione di vicinanza fisica. Noi abbiamo istituito una serie di laboratori, cioè pittura, musica, danza, cinema, teatro, insomma tutta una serie di laboratori il cui scopo non è che uno della comunità va lì a sentire voglio imparare meglio la tecnica della fotografia analogica per dire no? No perché all'interno di questa esperienza di questi gruppi che i notari hanno l'obbligo di inserire da uno a tre pazienti della nostra psichiatria. Cosa succede lì? Lo dico anche per esperienza diretta visto che io ne conduco uno sull'opera Il pensiero di Fabrizio di Andrè magari poi ci torneremo su questa cosa e succede che il paziente migliora la qualità della sua vita perché stabilisce relazioni umane come dire favorevoli, si sente accettato dalla comunità, lotta allo stigma e allo stigma interno, ma nel contempo succede un'altra magia, cioè le persone che si mettono in contatto relazionale con questi pazienti migliorano invece la loro visione del disagio mentale e riducono il loro stigma. Queste cose sono state testimoniate in diverse dove ci invitano, noi buttiamo sempre i testimoni e c'è questo paziente che dice guarda io da quando sono qua persino mi hanno ridotto la terapia farmacologica perché sto meglio, visto che ho una vita degna di essere vissuta. Oppure è una persona che diceva guarda quando ho saputo che c'erano i pazienti psichiatrici un po' ero turbata, preoccupata, poi ho conosciuto Giovanni, Paolo e devo dire che ho cambiato idea su queste persone. Cioè che cosa ha fatto cambiare idea questa persona? Ha fatto cambiare idea la conoscenza dell'essere umano, la persona non si riduce alla sua patologia ma la sua essenza, richiamo De Andrè la sua centralità, la centralità dell'uomo in quanto tale è uno dei pensieri più profondi per esempio di Fabrizio De Andrè ma allo stesso tempo anche di Franco Basaglia visto che è il centenario della nascita di Franco Basaglia e questi due persone, questi due pensatori hanno avuto appunto una comunanza nel mettere al centro l'essere umano in quanto tale. Allora quando conosci la persona piuttosto che la malattia tu rientri in un ambito empatico. Allora questo strumento diventa lo strumento penserei di dire mi sento di dire anche più come dire strategicamente concreto per poter lottare contro il pregiudizio e appunto lo stigma nell'ambito di questa di queste patologie. Ecco lei ha fatto riferimento a questo intervento di tipo musicale e quindi ha riferimento a Fabrizio De Andrè ma come funziona in concreto questo tipo di intervento specifico del suo progetto. Certo allora cerco di sintetizzare nasce intorno al 2012 quando personalmente mi sono trovato in difficoltà con certi pazienti durante il trattamento clinico semplicemente perché questi pazienti non riuscivano a vedere bene qual era il loro problema. Allora qualcuno può dire a lei che il clinico poteva dirglielo no? E' un'operazione questa che non va fatta perché il paziente va accompagnato diremmo socraticamente maiauticamente a partorire la consapevolezza di quel problema e quindi per risolvere questo problema mi ricordo questa paziente anoressica gli fece ascoltare una canzone di De Andrè che parlava dell'amore in qualche modo che va che va guadagnato e alla ballata dell'amore cieco o della vanità che è come tema tu vuoi che io ti ami dice la donna protagonista. Allora ammazzato mamma gli strappa il cuore dal petto insomma chi conosce sta canzone ha capito. La paziente ascoltando questa cosa individua questo tema e individuandolo dalla canzone è stata un'operazione più diretta e più favorevole alla consapevolezza. Questo mi permise sostanzialmente di portarmi avanti appunto nella terapia. Questa cosa si è ripetuta non in tutti i casi ma si è ripetuta in alcuni casi della mia direi anche lunga carriera clinica e qui da lì in avanti abbiamo proposto questa cosa alla fondazione De Andrè se l'idea di poter utilizzare il pensiero dell'opera di Fabrizio De Andrè poteva essere da loro in qualche modo anche autorizzato perché Dore Ghezzi è appunto la responsabile dei diritti morali dell'opera di Fabrizio De Andrè e siamo andati lì e abbiamo avuto ovviamente un supporto importante poi di queste storie è stato scritto un libro che è stato pubblicato dalla Spelling e Kufer nel 2013 dove ho raccontato tutte queste esperienze e da queste esperienze il passo successivo impegnativo è stato quello di mi sono messo a modificare i testi di Fabrizio De Andrè sembra una cosa folle no? Il più grande cantautore soprattutto dei testi che ha scritto oltre che per le bellissime musiche e in quel testo ha raccontato la storia del paziente questa cosa ovviamente è stata abballata anche dalla Dore Ghezzi e dalla fondazione che ci ha concesso appunto la liberatoria perché quando abbiamo cercato di pubblicare gli album la CIA ha detto i documenti sono tutti giusti ma se non mi porta la liberatoria Dore Ghezzi diventa impossibile e la Dore Ghezzi si è dato l'autorizzazione sia per il primo volume che per il secondo volume cosa facciamo noi? Quando organizziamo i nostri eventi ce n'è uno che è classico ed è, si chiama Tu prova ad avere un mondo nel cuore è che è un palcoscenico che noi offriamo a tutte le persone che hanno trasformato la sofferenza in una forma artistica, non solo musica ma anche tutte le altre forme in quell'occasione noi presentiamo queste canzoni proprio perché adattiamo al tipo di sintomatologia il testo che ci parla di quella patologia allora la gente ascolta quel testo e capisce meglio attraverso i canali empatici che l'arte ovviamente è assolutamente in grado di aprire capisce col cuore la sofferenza di quel paziente che viene raccontata appunto col testo che ho scritto io questo è il progetto Favere in mente che ovviamente è uno dei nostri cavalli di battaglia questa cosa nasce da un principio ben preciso io appunto sono partito da lei qualche anno fa Fabrizio D'Andrea rilascia una dichiarazione, una intervista a Vincenzo Moldica e precisa che, non la faccio lunga sa a memoria tutto quello che ha risposto le canzoni creano dei cambiamenti, delle realtà sognate se vogliamo cambiare la realtà che sta qua fuori dal teatro dobbiamo trasformare questi concetti in esperienze concrete questa idea io l'ho avuta, non sapevo che l'avesse avuta anche la fondazione perché quando ho presentato questo progetto loro stavano scrivendo un bellissimo libro si chiama Ai bordi dell'infinito e raccoglievano, hanno raccorto tutte le esperienze nel quale l'opera e il pensiero di Fabrizio D'Andrea viene utilizzato per creare dei cambiamenti concreti per esempio nelle scuole, nelle carceri con Iuraparo, insomma tutta una serie di personaggi e il nostro progetto fa parte di questa idea quindi l'idea che questo pensiero di Fabrizio era un pensiero che avevano avuto anche in fondazione ho avuto la fortuna di arrivare in tempo e mi hanno fatto pubblicare anche il mio progetto all'interno di questo libro appunto Ai bordi dell'infinito e questo è l'uso dell'arte ci ritorneremo un po' poi con degli esempi nelle prossime puntate ma un altro progetto particolarmente interessante che è un po' in linea con la mission del nostro programma è difendiamo i genitori a diffondere il benessere psicologico quale qualità insomma si propone questo tipo di progetti tra i nostri progetti c'è anche questo progetto che anche questo nasce per quegli anni che era il 2014 si chiama, prima la definizione perché è come amare i bambini nasce da un libro scritto da una psicanalista inglese che adesso mi sta sfuggendo ancora capite che sia una certa età ve lo dirò più avanti e che ha scritto questo bellissimo libro è stato ovviamente anche sostenuto da un'altra associazione con cui ho collaborato e da lì ci siamo messi in mente di creare questo setting che è un setting non clinico ma è appunto un approccio di consulenza di sostegno alla genitorialità perché per dirla così semplicemente tutti dicono e sanno che il mestiere genitore è un mestiere difficile però questa categoria di persone è abbastanza abbandonata cioè i servizi arrivano quando hanno i problemi o loro se siano un discorso di consultorio o con i loro figli se è un discorso di patologie alla WAMP piuttosto che nei altri servizi che si occupano di patologie dei ragazzi dei giovani, dei bambini quindi questa cosa non sto scoprendo chiaramente assolutamente all'acqua calda ma è una cosa che anche noi cerchiamo di dare un contributo se posso dirlo semplicemente il contributo che noi diamo è un contributo che si basa sulla teoria dell'attaccamento di bolbi grazie anche a degli autori che sono particolarmente attivi in questo ambito una E grazie a Tili e seguendo un po' la loro traccia perché loro lavorano specificamente con i bambini proviamo a dare del supporto psicoeducativo così lo chiediamo quindi sono degli incontri di mezza giornata che sostanzialmente chiedono poi la collaborazione anche di entrambi i genitori e si cerca di dare delle informazioni su qual è lo stile più naturale più efficace direi persino più umano che l'atteggiamento autorevole rispetto a quello autoritario permettetemi di dire lo stile autoritario della punizione fa capire che il bambino ha un problema lo stile rassista fa capire al bambino che il problema non c'è lo stile autoritario autorevole cerca di far capire che il problema c'è ma non sei tu e che io sono qua per provare appunto a cercare assieme di trovare la soluzione questo semplice costrutto se fosse possibile trasformarlo in un virus mi piacerebbe infettare l'intera umanità perché sono sicuro che cambierebbero tantissime cose e che si abbasserebbe enormemente quella curva esponenziale di cui parlavamo prima perché la prevenzione e la cura la prevenzione del disagio si fa all'interno delle famiglie direi anche all'interno delle scuole noi questa roba la facciamo anche con gli insegnanti che rimangono meravigliati del fatto che esiste un modello meno invasivo e meno come dire problematico il quale la sa perdere piuttosto che punire il bambino quando sbaglia o commette degli errori ma appunto avere un approccio autorevole che è quello umano più di buon senso e anche quello più efficace cercando di interagire con questo è il nostro buon senso ecco ma proprio collegandoci con questo tipo di discorso avevo detto nella prima parte andiamo a soffermarci molto brevemente insomma perché poi ne riparleremo più avanti sulla sanguinosa tragedia di Paderno il racconto del ragazzo è un vero e proprio sembra un racconto dell'errore insomma sembra di stare all'interno di un film dove gli sceneggiatori cercano di modificare insomma la realtà con colpi di scena ecco sembra un po' un discorso di finzione per cercare di porre lo spettatore sempre da un punto di vista diverso ecco purtroppo noi ci troviamo di fronte alla cruda realtà di quello che è avvenuto non è un film come si suol dire e ricordiamo cos'è avvenuto il ragazzo uccide prima il fratello poi la madre e successivamente il padre non entriamo nel merito degli aspetti un po' cruenti della vicenda però la sua testimonianza è li ho uccisi ma non volevo che soffrissero il che è tutto dire insomma ma quindi quale tipo di riflessione dottor Catania si può fare di fronte a questa tragedia di un ragazzo che viene definito un ragazzo normale tra le altre cose segue gli studi con risultati positivi svolge attività sportive una situazione che ha detto delle persone dei vicini è all'interno di una situazione di normalità familiare ma che tipo di riflessione di fronte a questo si può fare perché ognuno di noi rimane particolarmente disorientato relativamente a questa situazione provo a fare una riflessione per gradi e per aspetti di questo problema inizierei proprio dall'ultima cosa che lei ha detto per esempio questa abitudine bislac direi anche come dire confusiva di proporre servizi televisivi nei quali si intervengono cioè si intervistano i vicini di casa che teoricamente non sanno un cavolo di quella famiglia hanno visto i comportamenti esterni che non necessariamente corrispondono con la realtà familiare e continuano un po' a banalizzare ma era un bravo ragazzo erano bravi genitori e questa roba non è che è tanto utile serve a depistare perché ti sta portando fuori fuori dal problema perché perché se è successa qualcosa qualcosa deve esserci cioè direi schizofrenico paradossale dire che era tutto a posto cioè è una testimonianza che non aggiunge nulla secondo punto e dunque andiamo per ordine cominciamo a dare una spiegazione non una spiegazione ma una una lettura comprensiva che non giustifica attenzione stiamo dicendo qualcosa che cerca di capire il problema che quindi non può giustificare un atto così virulento ma cerca di capire perché l'unica cosa che ci rimane è capire non è che c'è altro da fare bene vediamo come si può capire questo questo evento che ovviamente non è chiaramente unico unico nella storia no e anche solamente non accadono solo nel nostro paese queste cose ma io ho letto un po' di roba di commenti dico quelli che mi hanno sostenuto mi hanno mi hanno convinto di più se posso dirlo per esempio quello di Recalcati Recalcati fa la lettura più esatta perché dice ma analizziamo che cosa ha detto questo ragazzo ha detto io volevo separarmi dalla mia famiglia e dalla loro oppressività ok quindi che cosa sta dicendo sta dicendo sta definendo una situazione assolutamente fondamentale per capire voglio fare una precisazione adesso adesso se fossero quei genitori correttamente direbbero no ma noi non l'abbiamo mai oppresso non è vero che ero oppresso e questa cosa crea un'altra difficoltà nella comprensione perché è assolutamente possibile anzi è assolutamente vero che i genitori non avevano intenzione di creare una realtà oppressiva ma non ce ne frega nulla della loro intenzione se vogliamo capire il problema del ragazzo perché la sua soggettività ha realizzato che lui era oppresso mi permettete di fare un ragionamento questo anche nella clinica è fondamentale e riguarda la soggettività dell'esperienza del paziente dico se vi racconto questo quando insegnavo all'università statale di Milano appunto alla facoltà di medicina nel corso di lavoro in tecnica per la rivoluzione psichiatrica sovente chiamavano uno studente e dicevano tu vai davanti un paziente che ti dice che in quel muro cioè su quel muro scusate vede dei ragnetti che camminano che cosa fai? risposta totale eh gli faccio capire che i ragnetti non esistono ecco questo è un intervento clinicamente sbagliato che è la stessa cosa di cui stiamo parlando prima perché è sbagliato? perché bisogna avere rispetto della soggettività del paziente quando il paziente riceve questa informazione ha due possibilità uno sono gravissimo io vedo le cose che non esistono allora nessuno mi può aiutare perché questo mi sta dicendo che la realtà è un'altra ma io intanto comincio a vedere continuare a vedere le mie allucinazioni visive e quindi questa non serve poi mi ricordo una volta che si è alzato un altro studente e dice ma allora che facciamo ci mettiamo a giocare con i ragnetti interessante questa battuta la verità è un'altra cioè che tu non ti metti a giocare con i ragnetti quindi legittimi e giustifichi la sua allucinazione ma neanche la contrasti parti dalla sua soggettività e gli dici guarda io non li vedo ma se tu li vedi parliamone dice voi potete dire che cosa c'entra tutto questo con la storia del ragazzino c'entra perché il suo vissuto era sono oppresso da questa famiglia quindi lui si basa su questo vissuto commette questa violenza e evidentemente anche su come si fa al passaggio all'alto ma prima di dirgli il passaggio all'alto voglio sottolineare la cosa che fa capire fa capire ovviamente recalcati quando dice ma questa 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 idea no lui non dice non usa queste parole questa idea è un desiderio che tutti gli esseri umani hanno quello che Freud chiamava l'uccisione fantasmatica dell'autorità cioè dire un essere umano un essere umano per poter avere un'esistenza equilibrata ha bisogno a un certo punto anzi direi in un preciso punto cioè il discorso il punto in cui sei adolescente dove non sei più bambino ma deve occuparti di te deve diventare genitore di te e per fare questo passaggio devi uccidere fantasticamente l'autorità che in qualche modo rappresenta l'acqua fonte nel quale ti sei abbeverato adesso l'acqua della devi procurare per conto tu questa uccisione va fatta fantasticamente quindi siamo di fronte a qualcosa che fa capire che questa fantasmizzazione dell'uccisione dell'uccisione dell'autorità non è accaduta allora la fantasmizzazione cioè dire la la non realtà la fantasia in questo ragazzo è passata è passata all'atto cioè confondendo la realtà con la sua realtà e questo passaggio è quello che può non giustificare ma far capire che cosa gli è successo su questa cosa precisa il professor Vittorino Andreoli ha detto una cosa che secondo me è interessante dice questo passaggio è facilitato anche da un mondo nel quale la realtà e la fantasia continua ad essere proposta come una situazione nella quale si accade una fusione di queste due cose e in un aspetto questo è più complicato in un aspetto della nostra mente in un aspetto della nostra figlia questa confusione può appunto non avere più distanza si confonde e si passa all'atto infatti lo stesso lo stesso Re Calcati gli stupisce come è giustificato sta roba no? cioè è una specie di allucinazione ha detto lui ed è vero è un'allucinazione pensare in fondo non volevo fargli del male è una condizione sostanzialmente che ti fa capire quanta non presenza c'è questo fa capire che il ragazzino lì non era presente non era presente era presente a una realtà che ha immaginato che ha desiderato mi permetto di dire anche questa storia che i ragazzi sono così performanti i nostri figli sono così performanti ogni tanto fermiamoci e facciamoci una domanda perché nel caso di questo ragazzo è possibile che l'essere così performante era un messaggio per dire voglio che voi mi accettate voglio che voi mi accettate e io faccio di tutto per rendervi contenti e sono performante ma neanche così è riuscito ad accettarmi allora questo potrebbe essere potrebbe essere lo sviluppo mentale di questa situazione e portare un ragazzo io dico non volontariamente ma perché ha afflitto di questa confusione e a portare a commettere gesti così virgolenti secondo lei c'è una responsabilità anche delle nuove tecnologie i social network che non fanno comprendere giovanissimi la differenza tra la realtà virtuale con il mondo reale assolutamente c'è esatto l'ho appena accennato cioè questo è sempre l'efficio e quindi la realtà non esistente le fantasie e confonderle con la realtà è un meccanismo che può appunto portare a perdere il controllo della distinzione tra realtà e fantasia e commettere reati come in questo caso perché non si riesce a fantasmizzare cioè fantasmizzare significa integrare questo concetto di distanza dalla dualità uccidere il padre in maniera fantasmatica e diventare se stessi una necessità assolutamente utile necessaria appunto allo sviluppo equilibrato il discorso di questa delle tecnologie è chiaramente un discorso direi persino banale perché continuare a vivere esperienze sognate come direbbe Fabrizio D'Andrea le esperienze sognate la fantasia crea delle esperienze sognate ma se confondiamo l'esperienza sognata con quella reale possiamo creare anche dei problemi questo è il concetto che mi viene da dire e questa storia incidio io però volevo dire una cosa io personalmente non sono convinto magari un giorno mi convincerò io non sono convinto di questa di questa negatività totale dei mezzi che conosciamo adesso di queste dell'epoca nella quale viviamo io penso che comunque attraverso lo sviluppo della tecnologia c'è una tecnologia funzionale una tecnologia invece parossistica quella funzionale ci aiuta a risolvere dei problemi cioè io faccio un esempio perché mi piace parlare di cose personali ma io dico se io io con wikipedia ma io trovo tantissime cose utili nel mio lavoro riesco a sapere tante cose che non avrei il tempo di andarmi a cercare un libro alla Sormani per vedere quelle certe cose oppure comprare i libri e poi riuscire a leggerle tutti lì trovi delle tracce io trovo delle pubblicazioni che nessuno mi ha mai parlato con cui trovo nei quali trovo delle cose interessanti quindi c'è un modo funzionale non demonizziamo certamente l'aspetto va regolato i giovani devono essere supportati nel punto dei social network non devono scusami devono essere supportati aiutati esattamente guidati poi voglio fare certo poi voglio fare un ragionamento ma facciamoci un argomento induttivo ma come mai di tutti quelli che sono sui social network non tutti hanno problemi di chicomori piuttosto che di omicidi di lanciarsi dal balcone che ne so faccio un esempio certo sto pensando in questo momento che tantissimi anni fa parlo degli anni 70 un mio collega aveva un figlio che si è lanciato dalla finestra perché pensava di essere Goldrake e ancora non c'erano i telefonini attenzione quindi questo problema è un problema ma la domanda è ma come mai non tutti fanno questa figlia allora la risposta è se ci stiamo attenti se creiamo dei rapporti empatici umani non giustificativi ma autorevoli rispetto a quelle che sono le problematiche dei nostri figli sono sicuro e non c'è nessuno che può smentire che queste cose si ridurrebbero al punto anche di poter assolutamente sparire c'è anche un po' il contesto del nostro tempo una realtà sociale piuttosto violenta l'abitudine alla guerra come se le persone morissero come in un videogame insomma non si sia la consapevolezza di questo tipo di realtà e anche il fatto che la famiglia non ha tempo per ascoltare probabilmente non solo all'interno della famiglia anche all'interno delle varie istituzioni educative le agenzie come si suol dire la scuola eccetera il livello d'ascolto non è particolarmente significativo sono d'accordo mi pare che voi con questo lavoro che fate dei genitori di 3.0 ne sapete forse anche più di me ma direi che è assolutamente così e poi la questione non è l'ascolto l'ascolto è un'arte difficile ascoltare non è ma lei con il suo figlio ci passa del tempo certo ma passo tanto tempo con il mio figlio ma cosa fa e io guardo il cellulare lui si vede i cartoni ma allora io dico ma non è la quantità di tempo che passa ma è la qualità ma i genitori qui vanno colpevolizzati vanno aiutati perché sono vittime perché hanno bisogno di informazione la gente ha fame di sapere qual è il modo migliore per gestire un rapporto con il bambino che si oppone a te quando arriva ai 16 anni e ti dice no ma questa cosa la faccio anche se tu non vuoi l'esa maestà no non è l'esa maestà è un bisogno necessario io dico sempre quando mi chiedono ma che cosa dovrebbe succedere secondo lei affinché un essere umano possa crescere in maniera equilibrata e io dico due cose avere relazioni affettuose amorevoli nei primi anni della sua vita fino alla preadolescenza adolescenza e durante l'adolescenza essere aiutato a riconoscere se stesso come diverso da te e per riconoscersi diverso da te ti deve contrastare quindi quando anche in maniera come dire assurda ti può sembrare assurdo ma la sua assurdità è una necessità per potersi distaccare da te quindi non deve necessariamente colpevolizzarlo anzi non deve affatto colpevolizzare cerca di capire cosa c'è ma neanche giustificarlo allora sì vabbè se vuoi fare questo fallo è un modo anche per lavarsi nelle mani no questa cosa che stai proponendo è una cosa che pone dei problemi io vorrei parlare con te di come possiamo fare trovare massima la soluzione a 16 anni un bambino è anche capace in qualche modo ha tutti gli strumenti cognitivi per poter capire anche il sillogismo aristotelico a quell'età quindi può capirti no invece sai il piccolo no non è vero allora cerchiamo di cambiare stile esso e noi operatori cerchiamo di aiutare questi genitori che hanno bisogno di informazioni reali concrete dimostrate no a questo punto ci si domanda ma il recupero di questo ragazzo il recupero psicologico ovviamente sarà possibile perché ovviamente molto banalmente qualcuno dice chiudiamo mettiamolo dentro chiudiamo la chiave e gettiamolo perché è un atto talmente terribile drammatico che le persone cercano di rimuovere e quindi non si pongono più il problema di avere un'attenzione nei confronti di questo ragazzo come sarà possibile a quali condizioni dottor Catania allora intanto devo dire che questa domanda ha solo una soluzione ha solo una risposta è doveroso che questo ragazzino venga recuperato come per qualunque altra persona autore di reato che sia psichiatrico o no autore che va recuperato perché se non si pensa a questo allora si è degli ipocriti dite che si è per la pena di morte e la finiamo questa storia perché è anche meno crudele condannare una persona tutta la vita questo è a 17 anni a fare che cosa a morire dentro è una domanda assolutamente che è la risposta anche dal punto di vista della nostra costituzione qui la pena di morte non c'è quindi almeno fin ad ora e finché non c'è la pena di morte è chiaro che è un recupero e poi ovviamente umanamente come si fa non pensare di poter recuperare un ragazzo come del genere sulla possibilità che questa cosa possa accadere non posso che dirvi sì cioè nel nostro nel nostro lavoro noi abbiamo sempre la speranza di poter recuperare qualunque persona abbia avuto dei problemi psichici o comunque abbia in qualche modo fatto esperienze problematiche nella loro esistenza gli strumenti esistono da un punto di vista poi concreto e pratico su questo non essendo o meglio cioè non mi sentirei di dire facciamo tutto quello che abbiamo bisogno di fare perché questo bambino e questo ragazzino venga recuperato come questo vale per tutti gli altri su questo forse qualche discorso costruttivo si potrebbe fare si potrebbe fare quindi se la la risposta alla domanda sarà è possibile recuperarlo ti dico è possibile recuperarlo sì su un piano teorico però ci deve essere una sovrapposizione anche col piano pratico perché se sul piano pratico poi le strutture non sono adeguate non sono sostenute non sono appunto attrezzate a fare un lavoro di questo tipo è possibile che questa cosa non accada però che si debba fare non c'è dubbio chiarissimo bene allora adesso andiamo a prendere in considerazione in quest'ultima parte della nostra trasmissione le iniziative che la sua associazione svolge sul territorio e andiamo a soffermarci su quella di questo mese in occasione della giornata mondiale della salute mentale che corrisponde anche al centesimo anniversario della nascita di Franco Basaglia ma non solo anche a qualche riferimento a De André un anniversario particolare ecco ricordiamo dove la sua morte certo allora che caratteristiche ha questa iniziativa della sua associazione e dove si svolgerà allora questo progetto questa iniziativa quest'evento nasce come un nuovo evento del progetto fare in mente il pensiero e l'opera di Fabrizio Di Andrei per la salute mentale che ha fatto parecchie cose sempre con il patrocino della fondazione De Andrei con l'utilizzo del loro logo ma ne abbiamo fatte parecchie non sto ad elencarle se qualcuno volesse passarsi il tempo volesse passarsi il tempo sul nostro sito ci sono tutti su Youtube ci sono tutti gli eventi tutte le cose le locandine eccetera e ultimamente a me è venuta questa idea di trovare delle sovrapposizioni tra il pensiero e l'opera di Fabrizio Di Andrei e il pensiero e l'opera di Franco Basaglia perché ci sono dei costrutti cioè dei modi di pensare che sono assolutamente sovrapponibili e siccome l'obiettivo comincio a dire con l'obiettivo nostro è uno cercare di fare in modo che non si spenga la luce su questi due grandi benefattori benefattori della comunità questo è l'obiettivo quindi continuare a fare questo lavoro e mi dico ma non ti stanchi mai no non mi stancherò mai perché se questa cosa serve a orientare una società come era nel cuore sia di Basaglia che di Andrei di una società giusta e umanizzata se noi perdiamo questa luce noi abbiamo perso il senso della nostra esistenza quindi il nostro lavoro è un pezzetto di un progetto più generale dove tutti gli attori della nostra esistenza dalla politica all'associazione alla gente comune non abbiamo possibilità di salvarci se non guardiamo in quella direzione non abbiamo possibilità di salvarci quindi non è una roba per divertirsi qui è una roba seria molto seria direi centrale alla sopravvivenza umana della nostra specie qualcuno dirà questo sta esagerando poi mi scrive e mi dice perché sto esagerando perché la realtà è un po' questa io non sono un pessimista sono un ottimista marcio io vedo sempre il positivo e quando c'è quel po' di negativo cerco dal negativo costruire qualcosa per trasformare in positivo quando si può quindi tanto per non creare fai intendimenti De Andrè e Franco Basaglia hanno delle sovrapposizioni interessanti prima ne avevo fatta una cioè mettere al centro l'essere umano in quanto tale parto da questa l'essere umano in quanto tale cosa significa qualcuno di voi immagina ha sentito il pescatore cosa fa il pescatore perché è così famosa questa canzone perché ha colpito le anime delle persone perché questo pensa all'uomo indipendentemente da quello che ha fatto non è quello che ha fatto ma è lui in quanto tale e quindi Basaglia Basaglia dice il malato non è la sua malattia quindi non dobbiamo considerarlo come la sua malattia lui non è la sua malattia lui ha una malattia ed è comunque una persona e quindi la centralità nel pensiero di Basaglia rispetto all'essere umano in quanto tale è evidente non è che si può discutere di questa cosa allora l'idea appunto di proporre adesso assieme a questa volta in collaborazione alla fondazione di Andrè questo progetto allora è piaciuto e il 15 di ottobre ho sbagliato il 12 di ottobre il 12 di ottobre al teatro Guenella spero di non aver confuso le date perché non è un'altra allora è il 15 di ottobre scusate il 15 di ottobre di quest'anno in occasione della fantasmatica giornata settimana mesi della salute mentale al teatro Guenella in via G. Dupré vicino a Mc Mahon ci sarà questo evento che è una conferenza spettacolo cioè si parlerà di questa sovrapposizione fra il pensiero e l'opera di Basaglia e di De Andrè e intervallandola con delle esecuzioni delle canzoni di De Andrè e ci saranno anche le canzoni del nostro progetto Fabri in mente perché uno degli altri elementi importanti che mi sembra utile sottolineare è questa sovrapposizione fra l'idea che ho detto prima di Fabrizio De Andrè di ricordare che le canzoni sono delle realtà sognate ma bisogna utilizzarle per creare dei cambiamenti reali cosa ha fatto Basaglia anche nel suo all'inizio di a Gorizia a Trieste è stato il primo a portare i laboratori artistici e nei suoi laboratori ci sono stati anche cantautori importanti Geno Paoli adesso tutti me li ricordo e quindi la musica e l'arte per Basaglia anche questi sono anche per lui sono utilizzati per creare dei cambiamenti come dire concreti perché è un trattamento come dire clinico nei confronti del paziente a cui lui dava la possibilità nella laboratoria di pittura di disegnare liberamente per esprimere se stessi e non le sovrastrutture quindi questo è un altro canale parlando di questo noi presenteremo il progetto Favera e Mente proprio che da qui si muove e cerca di creare dei cambiamenti un cambiamento sociale e individuale entrambi Basaglia e Deandre avevano questo scopo più forse Basaglia da questo punto di vista perché Deandre si occupava più di un cambiamento sociale Basaglia cambiamento sociale anche individuale perché lui curava le persone curava le persone ecco questa manifestazione ripeto è il 15 ottobre al Teatro Guanella e ci sarà questo scopo rivolto rivolto a tutti ingresso assolutamente a pagamento tutti quelli che sono appassionati che sono curiosi a tutti quelli che hanno almeno l'idea di dire ma forse ha un senso mantenere la luce accesa su questi due grandi pensatori perché c'è di bisogno di entrambi certo c'è di bisogno di entrambi anche nell'altra ingresso gratuito a pagamento no no ingresso gratuito è un'operazione appunto pro sociale quindi non è l'obiettivo è cercare di avere più persone perché più persone possono essere in qualche modo informate o comunque appunto stimolate a riflettere su queste cose che poi il tema l'ho detto prima è quello di spegnendo la luce su questi due grandi pensatori non si spegne la luce sulla nostra necessità di avere una società giusta e una società umanizzata se uno non è d'accordo su questo allora è nutre che venga se il dubbio su questo ci venga che magari riusciamo a convincerlo finisce qui la prima puntata della stagione 2024-25 del nostro programma Genitori 3.0 e ringrazio per la disponibilità il dottor Gabriele Catania che ricordo ci seguirà compatibilmente con i suoi impegni in questo nostro percorso sui temi della genitorialità e del benessere psichico ringrazio ovviamente ai nostri ascoltatori per l'attenzione invitandoli a scrivere suggerimenti o riflessioni nel gruppo Facebook Genitori 3.0 e a questo in questo gruppo noi cercheremo di attingere per le prossime puntate quindi io non solo ringrazio ringrazio lei e la vostra organizzazione ma vorrei anche sottolineare questo aspetto il lavoro che fate è in sintonia con quello che cerchiamo di fare noi perché in fondo parlare alla gente è l'unico strumento che abbiamo e magari spingere delle riflessioni che o perché distratti o perché non sono mai stati stimolati su questa cosa penso che i suoi radioascoltatori una qualche sensibilità ce l'hanno se no si collegano a Radio Italia e quindi sostanzialmente credo che questa cosa io mi permetto di elogiarla perché anche questo fa parte di questo progetto comune per una società giusta e una società comunizzata e arrivederci quindi alla prossima puntata dottor Catania faremo ovviamente nella prossima puntata un resoconto della sua iniziativa quella di cui abbiamo parlato in occasione di una giornata internazionale e parleremo di adozione con il fotografo Andrea Cherchi figlio felicemente adottato lui ne parla tantissimo si è reso disponibile per parlare e quindi sarà una riflessione proprio sul senso della genitorialità grazie ancora e a risentirci a lei grazie genitori 3.0 settimanale di informazione sociale rivolta ai genitori e ai futuri genitori un'opportunità per percorrere in modo consapevole la strada della valorizzazione degli affetti grazie a tutti 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 grazie a tutti